buongiorno ragazze allora sono le quattro del pomeriggio e sto andando all'eurospin a fare spesa poca roba o due buste non mi caricherò troppo perché sono a piedi e niente quindi ho pensato di fare un video in cui vi porto con me a fare un po di spesina e niente ci vediamo dopo eccomi tornata mi sono uccisa ho portato veramente tanta roba quindi vi faccio vedere in questo blog la spesa invece di fare il solito video spesa ve lo metto nel blog allora ho voluto provare questo pacchettino qui di pannolini 49 kg ci sono 22 pezzi dopo cerco lo scontrino così vediamo un attimo mi pare di averli pagati sui 3 ore e 60 e non convengono particolarmente rispetto al idl perché io il paccone grande da 56 pezzi mi pare da lidl lo pago sui 6 e 99 quindi pensavo fossero un po più convenienti ma ne ho preso comunque un pacchettino perché ci servivano poi qua c'è il sacchetto allora abbiamo zucchine chiare finalmente le ho trovate non ricordo il prezzo però dopo guardiamo sono tre zucchine belle belle cicciotte poi ho preso questi yogurt qua che penso siano una novità perché solitamente trovavo solo quelli di frutta a pezzi e invece sono ho trovato questi sono felicissima nocciola vaniglia stracciatelle pistacchio quando si ha voglia di una di una piccola merenda o anche per federico insomma sono quelli senza pezzi che anche a lui piacciono molto di più poi ho preso uova fresche le solite che prendo sempre 10 allevate a terra poi ho preso aromi misti per quando cucino la carne queste cose qua o faccio le patatine insomma per un po di tutto poi sfoglia che sia un po piegata questa è la pasta sfoglia poi crescenza poi ho preso insalata cuori di iceberg croccanti poi basta preso i succhi di frutta per fede sempre i soliti mele banana che già conoscete stra conoscete poi ho preso questo estratto di limone mela e menta di questa linea loro del campo mi ispirava non lo so mi sembrava dissetante essendo che ora fa caldo mi ispirava parecchio quindi vi farò sapere in qualche blog qua c'è il gettone il carrello poi ho preso la solita nutellina che mi chiede sempre fede per fare una volta una fetta di pane anche per colazione poi ho preso il ketchup ho preso questi qui che mi ha chiesto di chi se prendevo simili bounty sono molto molto simili ai bounty e sono degli snack al cocco ce ne sono sette pezzi poi ho preso il booster ma di puro suino per cambiare da tenere per così poi ho preso la trita macinato ragù vedrò se farci un ragù o qualcos'altro in realtà vorrei fare con le zucchine le zucchine ripiene però ne ho solo 3 maionese che avevamo finito tutte le salse in casa poi ho preso un bel melone da fare entro domani loro ho scelto bello bello maturo mi lo faremo probabilmente domani e prima busta andata proseguiamo con pane quello americano solito che preferiamo noi fare gli hamburger che stasera voglio fare proprio l'hamburger come come quello del mcdonald quindi proprio la carne l'insalata la maionese e le varie salsine poi ho preso parmigiano reggiano dop questo pezzo di masdammer insomma assomiglia un po all'emmental era in offerta a 1 euro 86 poi ho preso il sale fine sale fine che avevo finito gli yogurt da bere che fede adora uno alla ciliegia e vaniglia e uno alla banana sono molto buoni a lui piacciono tanto per fare merenda un bicchiere ogni tanto poi ho preso un forti e invece questo qua mi piace molto l'ho già preso avevo già preso anche altre profumazioni di questa linea e ve le consiglio sono buone e persistono abbastanza poi ho preso questa birra qua dark bir spero gli piaccia perché io so che mi piace la birra normale però quella birra nera non saprei poi ho preso questi cubetti erano in offerta di prosciutto cotto per fare una torta salata con il formaggio oppure fare un'inserta di riso insomma vedrò poi ho preso le piadine e il kebab di pollo versione un pochettino più salutare rispetto al kebab che si prende fuori insomma me lo faccio io con insalata pomodoro un po' di salsa e lo arrotolo proprio nella piadina molto buona anche fatta in casa se volete poi ve lo faccio vedere in un video vi posso fare un video di come faccio io il kebab è buono banane poi due confezioncine di insalata russa questa qua dell'Eurospin è molto buona e costa veramente pochissimo mi pare 79 centesimi a confezione ce n'è 200 grammi a confezione quindi è molto buona e poi dura tanto adesso volevo vedere la scadenza ma non mi ricordo dov'è comunque dura parecchio quando lo scoprirò ah 23 luglio siamo al insomma a metà giugno quindi vedete dura molto quindi lo tengo lì proprio per ultimo solite sottilette pizzarella che sarebbe l'imitazione della pizzottella della santa lucia questa della land ideale per la pizza io l'utilizzo per la pizza per fare le pizzette i salatini perché e mozzarella compatta non ha tutta l'acqua che che esce insomma quindi è è ideale per queste per queste cose per torte salate io prendo sempre quella lì poi ho preso anche mozzarella mozzarella dovrebbe essere light questa no non c'è scritto light ma solitamente la confezione verde è light mi sarò sbagliata comunque mozzarella normale 4 mozzarella per 125 grammi e voilà queste qua le ho prese per fare il pomodoro stile panino ora vi spiego poi qua ho preso i quattro hamburger per fare il panino questa sera è un hamburger di bovino adulto scottona francia italia c'è scritto altro poi ho preso il salmone scozzese affumicato che era in offerta questo qua è allevato in scozia salato a secco affumicato con legno di faggio lavorato dal fresco mai congelato fonte di acidi grassi omega 3 quindi insomma un super salmone quindi sono contenta di averlo preso anche perché quel giorno in montagna con silvia era qualcosa di meraviglioso ed era far salmone affumicato quindi era molto 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 buono e quindi mi è venuta voglia di farlo anche a casa e poi ho preso un po' di affettati ho preso la bresaola metto giù perché altrimenti superiamo il livello della poi ho preso salame ungherese ho preso arrosso di tacchino affettato ho preso il bacon a fette questo qua l'ho preso sempre per l'hamburger di stasera per farlo proprio versione mcdonald e la morta dell'ina sempre a fette è carina perché è rotonda ideale per fare un tramezzino così un toast poi l'ultimo sacchettino ultimo sacchetto qui abbiamo ho voluto provare visto che visto che molte di voi mi hanno consigliato di provarle ho preso queste salviettine per neonati morbido tessuto nido d'acqua delicato sulla pelle dermatologicamente testato e no sapone ph fisiologico no parabeni insomma mi sembravano abbastanza buone ingredienti attivi con glicerina estratto di avena e bisabololo che non saprei cos'è sia comunque proviamo proviamo ho preso solo un pacchettino perché non me la sentivo di prenderne troppi idem i pannolini perché così vedo come mi trovo poi dischettini di cotone per moi da mettere nel mio dispenser poi ho preso i biscotti questi qua i granelli di zuc... granelli o granetti granelli frollini con granelli di zucchero senza olio di palma che solitamente sono quelli che piacciono di più ai signorini perché io i biscotti a colazione cerco di evitarli ogni tanto dipende che biscotti ci sono in casa sono quelli golosi un po' più cioccolatosi magari cedo però questi qua semplici va poi ho preso scorta di pomodori ho preso i pomodorini per le insalate queste cose qua e poi ho preso questi qua che avrete visto nel video che sono fantastici se li trovate prendeteli io li amo alla follia si chiamano cumato original non li ho mai trovati all'Eurospine la prima volta che li trovo ero felicissima ero tentata di prenderne due confezioni poi ho detto vabbè poi esagero ho troppi pomodori ho preso anche i pomodorini però questi qua sono un po' più concentrati meno acquosi rispetto al classico pomodoro e sono fantastici per fare tagliare a fette metterci mozzarella pomodoro mozzarella pomodoro tipo panino veramente buono un po' come nell'immagine vedete proprio così e sono poco sbrodolosi ecco quindi belli concentrati sono buonissimi provateli poi mi direte poi ho preso queste briochine qua tutte spiaccicate che piacciono tanto a fede queste qui anche a Ricky mi piacciono quindi le ho prese poi ho preso sempre per l'hamburger di stasera le fettine al cheddar questo qui e poi ho preso questo qua anche questo ve lo consiglio se vi piace il cocco e mi trovo veramente veramente bene e sono i freschi shakerati rinfrescante effetto idratante termologicamente testato ghiaccio e cocco super super wow soprattutto per l'estate io l'ho utilizzato anche quando non faceva così caldo e non è che senti proprio la menta addosso il freddo cioè alla fine è sempre un sapone però mi piace mi piace e questo qua è un bagno doccia quindi sia per il bagno che per la doccia va bene poi sempre in offerta come avete visto nel video c'era l'olio di semi di arachide quindi l'ho preso e poi i dolci sin fundo mi sono presa le ciabatte da tenere in casa in realtà perché come sapete non andremo in vacanza al mare per quest'anno vedremo per il prossimo però erano molto carine costano 2 euro e 99 mi pare e a casa ho solo ciabatte diciamo in tessuto adesso vi faccio vedere che ho queste in tessuto e inizio ad avere un po' caldo con sincera quindi mi sono presa queste che non ne avevo proprio e per 2 euro e 99 almeno ho i piedini al fresco e basta questa è la mia spesina ho dovuto comprare una busta perché pensavo mi bastassero due invece no e niente ora andiamo a sistemare il tutto e ci vediamo tra poco vi faccio una rapida carrellata dei prezzi magari vi può essere utile comunque siamo di media intorno all'euro 80 un euro insomma 59 centesimi e nel totale ho speso 82,84 guardate un po' chi c'è allora abbiamo un po' di cosine da aprire perché è passata la mia amica Silvia ciao Silvia è passata Babba Natale ti voglio bene ciao Silvia una delle due mie migliori amiche e sì perché ho due migliori amiche quindi una delle due e ha portato un po' di pensierini perché poi lei non ci sarà al compleanno di fede non ci sarà al battesimo di Alessandra insomma tutte cose perché non ci sarà partirà e quindi mi ha portato in anticipo un po' di roba che scartiamo con voi questo l'ha portato per me non so perché perché il mio compleanno è già passato però mi ha detto che erano cosine utili quindi vediamo allora due spugnettine per il trucco salviettine struccanti 3 in 1 effettivamente roba utile effettivamente poi acqua micellare della Venus struccante occhi ultra delicato eeeh fincavo qualcosa dove vado? no mi restavo un po' la gamba mi sentivo piccola non devo capire perché fa sti guarda cioè è strano non so se voi in video lo vedete ma se mi avvicce se faccio vedere così fa un colore se mi nascondo diventa buia non capisco andiamo avanti vai vabbè questo e poi questa crema da giorni intertanto e protettiva Venus grazie Silvia grazie Silvia non dovevi grazie Silvia io non c'entro niente tu cosa vuoi è mia amica e ha preso a me oh allora i tuoi amici mi fanno i regali no fatemi dei regali vabbè invece per quanto riguarda ha preso il pensierino anche per il battesimo di Alessandra amore li fai per quanto riguarda ha preso anche che cazzo vuol dire? bluebird no auguri per il battesimo di Alessandra Silvia e Armando vediamo un po' cosa li hanno preso vediamo vediamo non vedono neanche la scatolina voglio vedere l'orsetto vado a vedere l'orsetto l'orsetto l'orsettino love you so much scusatelo eh non è abituato a fare i video ecco qua semplicemente sono abituato alla videocamera quella vecchia sono rimasto ancora a quella ho una chiamata avevate dubbi che fosse durante un video? ma non è importante ce ne faremo una ragione ci aspetteranno allora oh che bello un bel vestitino oh ma che carino grazie che non gli metterò mai perché altrimenti poi la guardano tutti i bambini non va bene sei nove mesi che carino lei è piccola di mia ecco noi ci tocca e un po' di rosa da mettere insieme si è un completo che bello e poi ancora ancora speriamo ancora oh leggo tu ehm e noi diciamo oh mi sa che l'ho presa in francia perchè è l'italiano ehm tuttututututu acqua rinfrescante wow non ce l'avevo questa grazie grazie mille non dovevi la mia tatina la tatina abisso vediamo e questo è fatto e poi c'è attendere prego stiamo lavorando però ma che cappaticio questo è perfettino per il suo compleanno magari non so se farvelo vedere adesso o poi al giorno il suo compleanno che dite voi? teniamo un po' di suspense per il compleanno dai, tanto di Federico e quello è quello? questo lo prendi tu che è l'ultimo allora, questo qui buon compleanno Federico sempre, aspettate che guardo perché mi ha detto che una cosa mi serve subito e non è questa allora apriamo l'altro dai queste ve le tengo per il suo compleanno così vi faccio il video sui suoi regali di compleanno e questo qua mi ha detto una cosa e ti serve subito quindi lo apro vediamo, vediamo chi è giù? no, mi senti così? le ciabattine le ciabattine effettivamente gli servivano ma che belle nautico e poi vabbè c'è ah, qua c'è un'altra cosina per Ale anche allora c'è no, ti dite infatti ha ragione questo ci serve subito che è un pigiamino per Fede questo glielo lascio subito e l'altro lo aprirà il compleanno fa caldo 6-8 anni maglietta e pantaloncino sempre con lo squaletto perché sa che gli sono piaciuti gli squaletti questo è dai tre mesi in su sempre per Ale per i dentini legge i massaggi a gengive rosa con il coniglietto già mi piace già mi piace che aspettavo tresor guardate che carina madonna trova sempre delle cose sfiziosissime di dove abita lei sì, veramente proprio carina e carina guarda che forte è bellissimo grazie mille Silvia grazie un bacione e teniamo un po' di suspense per il resto per il compleanno di Fede tanto ragazze il 12 luglio è il compleanno di Fede quindi non è che dovreste aspettare poi tanto io dopo lo apro no dai per favore no ma lascia il sponsor loro perché io no dai per favore io dite voi no chi fa ci consente no bene adesso mi accingerò mentre lui porta fuori in ala che sentite arrivare esatto ha già capito parlano di me parlano di me io inizio a cucinare gli hamburger per il panino perché stasera facciamo seratina mcdonald versione sana e salutare ah sì dai l'hamburger fatto in casa è meglio del mcdonald io il mio hamburger ti ho detto cosa voglio come lo voglio carne bacon pomodoro insalata maionese che allora stavo dicendo che dar c'è dar allora partiamo da un presupposto è il mio primo giorno di ferie mi sono massacrato un anno praticamente quindi per cui il primo giorno festa da domani si torna a fare bravi chi non è d'accordo su culetto bene salutate Ricky che dopo mille mille anni si fa rivedere dei vlog adesso per due settimane adesso per due settimane ve le trita così tanto che non vorreste non vorrete più vederlo per il prossimo anno mi non è stato il prossimo no comunque a parte gli scherzi ne approfitto per chiedervi che video vorreste vedere fatti da me e lui insieme perché appena magari Federico non c'è col papà eccetera abbiamo un po' più di tempo facciamo magari qualche challenge qualcosa di dove sei qualcosa di divertente quindi se avete visto delle challenge nuove sfiziose scrivetecelo qui sotto qualcosa che ci faccia divertire se vi piace la categoria video scherzo e quant'altro ditelo che così non li minacci cosa ci ha fatto ditelo va bene io ho già un paio di ideuzze ce le ho quindi se vi possono interessare ditelo vabbè scriveteci qui sotto poi metterò anche una stories su instagram così anche lì faccio un po' di sondaggiuzzi e ci date un po' di ideuzze tutto uzzo mi rendo conto che fare così durante il video è stupido sono stanco ho dormito niente stanotte è il primo giorno di ferie sei stanco tu io sono stato a letto alle 4 questo è stanco capito ragazze ho ore di sonno del pupè non fate figli vabbè detto ciò un bacio ma vuoi uccidere l'umanità ma l'umanità è intera uccidere sciocchi bene vado a sistemare sta roba ciao 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 ciao